Una ragazza freestyle può farsi una pettinatura con questo stile, o questo, oppure questo. Perché con la spuma freestyle i capelli tengono la piega che vuoi. Distribuisci la sua i capelli, pettinali come ti piace, e i capelli terranno con un tocco di naturalezza. Dall'Oreal freestyle per dare uno stile alla tua pettinatura. Grazie.